Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti di nuovo, ancora ben ritrovati qua nel solito disordine della mia libreria che oramai ben conoscete, da me, dal mio giubbino da combattimento che porto sempre e dalla mia maglietta vintage dei leggendari Curnalcol e chi conosce il metallo italiano sa cosa sono i Curnalcol, ma torniamo un attimo a noi. Allora, 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 fatemi fare, mettiamola così, in questo video mi divertirò un pochino a fare la carogna alle spese dei tedeschi, niente di particolarmente cattivo sia ben chiaro, non la voglio menare per il lungo e il largo su certe cose, ma mettiamola così, se noi italiani a livello aeronautico abbiamo combinato delle catastrofi, chiamiamole con il loro nome, delle catastrofi aeronautiche come il Kansa FC-20, come il Breda BA-88 Lince, come l'SM-95 Banana Volante, i tedeschi sono riusciti volendo a combinare anche di peggio. Perché? Perché avete presente? Allora, vi siete mai chiesti come mai la Luftwaffe andò avanti per tutta la guerra, sempre con gli stessi tipi di bombardieri risalenti all'inizio della guerra. Bombardieri come lo Heinkel 111, come il Dornier 217, come lo Junkers 88, che erano aerei validi, però nati alla fine degli anni 30 e che a fine della guerra erano decisamente sorpassati. A quell'epoca il progresso aeronautico era velocissimo. In pratica la Luftwaffe sin dal 1939 aveva lanciato un concorso chiamato Bomber B, proprio per sostituire questi bombardieri da poco entrati in servizio. I progetti furono affidati a diverse industrie, Rado, Dornier, Focke-Wolf, Junkers, eccetera, eccetera. E i prototipi furono costruiti, i prototipi del Dornier 317, del Focke-Wolf 191 e dello Junkers U-288 con l'Hanshel HS-130 come outsider. Solo che cosa accade? Accade che praticamente le industrie tedesche non ne combinarono una dritta e non riuscirono mai a mettere insieme un sostituto decente dei vecchi bombardieri. C'era per esempio questo qui, lo Heinkel, no scusate, il Dornier DO-317. Eccolo qua, eccolo qui, questo aeroplanino qui, vedete? Il Dornier 317, non molto dissimile dal predecessore 217, ma decisamente sottopotenziato con caratteristiche di volo non entusiasmanti e con caratteristiche di pilotaggio non propriamente simpatiche, perché insomma si vede anche, secondo me, come notate bene. Io non sono un ingegnere, ma da quel poco che ne so, direi che un aeroplano così grosso, con un'apertura alare così ridotta, qualche problemino nell'inviluppo di volo ce l'ha sicuramente e ce l'aveva. Diciamo, il Dornier 317 morto nel ottobre-novembre 1942 perché furono bloccati tutti i progetti di sviluppo per questo aereo. Poi ce ne fu un altro, sempre progettato per la specifica Bomber B, il Fokwulf 191, che sarebbe questo qua. La fonte è, dicevo, lo speciale di aerei nella storia del dicembre 2004 dedicato ai progetti segreti e ai prototipi tedeschi. Questo qui, il Fokwulf 191. Un aereo che, teoricamente, poteva avere delle buone idee se non fosse stato per due disastrose decisioni dell'ufficio tecnico della Fokwulf, ovvero sia l'adozione di un sistema chiamato Multhop Clappe per l'interconnessione degli ipersostentatori con i freni aerodinamici di picchiata, perché questo aereo doveva anche fare bombardamenti di picchiata. Dicevo, il Fokwulf 191, oltre ad avere questo sistema di interconnessione tra ipersostentatori e freni aerodinamici, aveva, che causava gravissimi problemi aerodinamici e strutturali, vibrazioni, traini aerodinamici nefasti, insomma, un disastro. Il Fokwulf 191 veniva anche soprannominato dai piloti che ci avevano a che fare come das Pflegende Kraftwerk, ovvero sia la centrale elettrica volante. Perché? Perché in questo aereo, nel Fokwulf 191, eccolo qui di nuovo, eccolo qua, nel Fokwulf 191 tutto, e ripeto tutto, era servo comandato tramite motori elettrici. Tutto in questa macchina, in questo aereo, era comandato da motori elettrici. Carrello, sportelli del vano portabombe, comando dei timoni, comando degli alettoni, comando dei flap, tutto era azionato elettricamente. Con uno spaventoso aumento di peso, complicazioni meccaniche e soprattutto una estrema vulnerabilità in battaglia. È la solita mania tedesca di far vedere quanto ce l'hanno bello, grosso e duro. È complicato. È più forte di loro. È più forte, cioè i tedeschi non sono capaci di ragionare diversamente. È troppo più forte di loro. Che vi devo dire. Quindi anche il Fokwulf 191, che tra l'altro era anche un aereo estremamente pesante perché pesava più di 20 tonnellate ed era anche sottopotenziato. Se vi viene in mente il Breda BA88 Lynch, non siamo tanto poi lontani dal vero. Un aereo dal pilotaggio difficile, un aereo dalle pessime caratteristiche di volo, un aereo pesante e sottopotenziato, veramente sottopotenziato, che fu anche lui abbandonato a metà del 1943. Poi, sempre per la specifica bomber B, i tedeschi avevano pensato allo Junkers 288, un aggiornamento dello Junkers 88 che era chiamato il bombardiere meraviglia. Der Wunderbomber, il bombardiere meraviglioso. L'aereo era questo. Eccolo qua. Questo era lo Junkers 288. Come vedete un aereo elegante, dall'aspetto moderno, dall'aspetto filante. Un aereo che non fu mai appunto. Basti dire una cosa. Una trentina, circa 35 esemplari costruiti, tutti per vario tipo, con vari tipi di motore, con vari tipi di armamento, con vari tipi di soluzioni aerodinamiche. Cioè, insomma, un aereo sperimentale. Un aereo che avrebbe potuto promettere bene. Un aereo che poteva essere il nuovo bombardiere medio della Luftwaffe. Avrebbe potuto essere. Perché? Perché lo Junkers 288 su 35 esemplari costruiti, 15 si schiantarono per terra. Cioè, il 40% degli Junkers 288 costruiti si schiantò per terra. Perché? Sottopotenziato, fragile, problemi all'avionica. Insomma, un aereo nato decisamente sbagliato, che non stava per aria. Un aereo che alla fine si decise di non sviluppare per risparmiare, come dire, tempo e soldi e materie prime. Cioè, allora, quando fu, come dire, abbandonato con gli altri progetti della specifica Bomber B, lo Junkers 288, diciamo, più o meno, sì, più o meno fu interrotto il programma di sviluppo nel 1943, più o meno, dicevo, dei 35, sì, 35 o 40 esemplari costruiti, 15 erano andati, perduti in incidenti di volo. Diciamo che, insomma, non depone molto a favore dell'aereo. Cioè, ragazzi, nemmeno il lince ha avuto un rateo di perdite così elevato. Cioè, siamo sinceri, nonostante l'aspetto filante, moderno, nonostante la... era un bellissimo aereo. Cioè, l'aspetto filante, l'aspetto moderno, l'aspetto estremamente, come dire, accattivante a livello estetico. Era un disastro questo aereo, perché non stava, non stava per aria. Una quarantina di esemplari costruiti, 15 persi, caduti per terra. Cioè, c'è anche da dire, cioè, c'è anche da dire una cosa. Nel periodo in cui il progetto dello Junkers 288 e degli altri aerei della specifica bomber B venne accantonato. Cioè, la... come dire... la Germania, in quel periodo, non aveva e non ebbe mai, del resto, una grande coordinazione per lo sviluppo della ricerca bellica. I programmi si accavallavano uno sull'altro e non c'era verso di districare la matassa. Le risorse diminuivano e diciamo che anche la Luftwaffe non fu mai realmente convinta della necessità di avere un nuovo bombardiere medio. Quindi, nel giugno 1943, il programma sullo Junkers 288 venne sospeso. Perché non funzionava bene? Ripeto, 15 aerei perduti per incidenti di volo, in decollo e in atterraggio su una quarantina costruiti. Non è una cifra che depone veramente molto bene a favore della bontà di questo aereo. Ripeto, un aereo dall'aspetto estetico accattivante, interessante, un aereo moderno, molto più moderno dei suoi predecessori, probabilmente avrebbe potuto essere anche più efficace se avesse potuto volare, detta com'è. Ripeto, la dimostrazione di come i tedeschi non fossero in grado di ragionare lucidamente sotto l'aspetto puramente industriale della guerra è rappresentato, secondo me, in pieno dalla cosiddetta specifica Bomber B, ovvero sia aerei abortiti malamente per tutta una serie di problemi. Eccessiva sofisticazione, errori progettuali, soluzioni costruttive e aerodinamiche bislacche, c'è l'interconnessione tra flap, tra ipersoluzioni, sostentatori e freni aerodinamici. Non è che ci volesse un genio per capire che avrebbe potuto creare dei guai, ma vabbè, non infieriamo. Per non parlare poi dello Junkers 288, un aereo che quando volava bisognava vedere per quanto tempo si ricordava che doveva volare. Tutto qua. Insomma, se noi italiani durante la seconda guerra mondiale abbiamo combinato dei grossi disastri aeronautici, beh, consoliamoci, se possibile i tedeschi sono riusciti a fare peggio di noi. Tutto qua. Quindi, cari signori, io vi ringrazio per l'attenzione e come sempre arrivederci al mio prossimo video. Buonasera.